Recensioni negative, false su Google. Perché dovresti evitarle come la peste se hai a cuore l'esperienza utente del tuo sito web? Te lo racconto come sempre nel tempo di una birra. Ciao, io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando l'esperienza utente. Salute! E le recensioni dei prodotti, dei servizi, sono un grande alleato sia degli utenti e sia dei venditori, dei manager. Sono sicuro che anche tu prima di aprire il tuo e-commerce hai guardato i feedback di altri prodotti, di altri e-commerce prima di mettere i prodotti nel carrello. Infatti non ho alcun dubbio sul fatto che tu sappia quanto una recensione positiva può convincere un utente ad acquistare e invece quanto una recensione negativa possa dissuaderlo dall'acquistare. Probabilmente a questo punto ti è venuta in mente un'idea diabolica e geniale al tempo stesso. Se ti piace come ti racconto l'esperienza utente e ti interessano questo tipo di contenuti puoi sostenermi mettendo un like oppure iscrivendoti al canale. È un gesto semplice che però per me conta davvero tanto ed è anche un modo per sdebitarti, dai! Ovvero comprare recensioni positive per il tuo e-commerce e comprare recensioni negative, false, per l'e-commerce dei tuoi competitor. Beh sul fatto che sia diabolica non ci sono dubbi, però non c'è veramente nulla di geniale, veramente nulla. Perché infatti comprare le recensioni negative per un competitor non è solo qualcosa di stupido e tra poco capiremo anche perché, ma è proprio illegale. Ma guarda che anche l'acquisto di recensioni positive per il tuo e-commerce è sicuramente un'azione sleale nei confronti dei tuoi competitor che possono anche denunciarti per questo. E tu dirai voglio proprio vedere se il mio competitor si accorge che le mie recensioni sono fasulle. Vai, prova! E poi vedi un pochettino quanto ci mettono le persone, quindi non solo i tuoi competitor ma anche i tuoi utenti, a capire quanto quelle recensioni sono fasulle. Ci mettono niente perché sono evidenti molte volte, per la stragrande maggioranza delle volte. E anche la polizia postale una volta aperta un'indagine ci mette veramente poco a smascherarti. Insomma stai rischiando parecchio perché comunque ti stai confrontando con Google stesso, perché se hai un e-commerce sicuramente sei su Google e hai a cuore quello che Google pensa del tuo e-commerce. Se tu inizi ad attivare delle azioni sleali, come per esempio le recensioni positive fasulle ai tuoi prodotti o al tuo e-commerce, beh, insomma, stai intaccando l'autenticità dei tuoi contenuti e quindi anche l'autenticità di Google. E Google punta tantissimo nell'assicurare agli utenti informazioni precise, soddisfacenti ma soprattutto reali. Se Google si accorge che hai delle recensioni finte nel tuo e-commerce, nella tua app, di banna, ti cancella dal suo motore di ricerca. E questo non lo vuoi, te lo dico io, perché è la fine di tutto, è la fine dei giochi. Game over. Già quello che ti ho detto dovrebbe bastarti e avanzarti per, insomma, non continuare a pensare di comprare recensioni positive per il tuo e-commerce e negative per gli e-commerce dei tuoi competitor. Perché se Google ti becca sono dolorissimi, veramente. Voglio andare a fondo e condividerti alcuni consigli molto importanti che puoi fare invece per le recensioni, in generale dei tuoi prodotti oppure del tuo servizio sul sito web oppure sull'app. Cerchiamo di ipotizzare un caso immaginario dove tu compri delle recensioni negative per il tuo competitor. Ok, quindi cosa ti aspetti che succeda? Magari il tuo e-competitor vende meno, ma tu non vendi di più. Cioè, questa è una cosa che sembra banale, ma è bene dirla. Che se non stai curando l'esperienza utente del tuo e-commerce, è difficile che tu possa migliorare, avere dei risultati diversi da quelli che stai ottenendo ora. Perché non stai facendo niente per migliorare l'esperienza dei tuoi utenti. Stai semplicemente peggiorando l'esperienza degli utenti negli e-commerce dei tuoi competitor. Ma non stai migliorando la tua. Però le recensioni negative ai tuoi competitor, quelle vere, quelle che puoi leggere tranquillamente anche tu ora, possono essere molto utili per il tuo business. Sicuramente puoi andare a guardare quali sono quegli aspetti che gli utenti trovano nei tuoi competitor poco soddisfacenti. Quindi magari andare a fare una ricerca dettagliata sui commenti e cercare di capire che cosa non va nel servizio o nel prodotto dei tuoi competitor. Quindi stai andando a guardare praticamente i punti deboli. E nel momento in cui l'hai compreso, sicuramente puoi agire tu e quindi dare soddisfazione agli utenti dei tuoi competitor per soddisfarli tu. E quindi magari in quel caso proporti tu in prima persona. Questo è un modo saggio e sano di migliorare la tua esperienza utente. Parliamo invece delle recensioni positive al tuo e-commerce o al tuo servizio o alla tua app. Nel momento in cui compri delle recensioni false, positive, stai sicuramente prima di tutto sprecando soldi. Stai rischiando con Google perché se ti becca ti manda via da qualsiasi cosa lui abbia. E soprattutto sono facili da riconoscere. Cioè tu pensi che sia difficilissimo, ma in realtà per un utente, per una persona che sta veramente andando a controllare se qualcosa gli piace, gli interessa, fa il caso suo o meno, quella recensione se è fasula si vede in un modo o nell'altro. Perché magari sono molto lunghe, hanno degli errori grammaticali, perché sono fatte in serie queste recensioni che compri. Mica c'è qualcuno effettivamente che le fa una alla volta e si preoccupa di capire quali sono gli aspetti positivi del tuo e-commerce e valorizzarli. Assolutamente no! Sono delle macchine, sono dei bot che fanno delle recensioni negative o positive in serie. Alcune volte sono anche in inglese, in una lingua che è proprio diversa rispetto a quella del tuo sito, della tua app. E sai cosa succede quando un utente scopre che è davanti a una recensione negativa? Un casino! Perché se per quale motivo dovresti dire una bugia se effettivamente il tuo prodotto o il tuo servizio ha un valore riconosciuto, se hai autorevolezza, perché dovresti mentire? La cosa gli puzzerà a quest'utente e quindi sicuramente andrà ai ripari, quindi salirà il dubbio e insomma la fiducia per forza di cosa verrà meno e lui abbandonerà il tuo e-commerce. E una volta che lo abbandona non è facile, anzi è veramente molto molto difficile andare a recuperare la fiducia in quell'utente perché lo etichetterà nella sua mente come ah quello è un e-commerce cazzaro, quello è un sito web che dice bugie, quindi non si fiderà e spargerà anche la voce nel peggiore dei casi. Ma poi in ogni caso nel momento in cui acquisti recensioni positive, cioè sei sicuro che queste recensioni positive, questi soldi che stai spendendo, che pensi di spendere in maniera giusta vadano a migliorare l'esperienza dell'utente? Perché se siamo qui e stiamo parlando di recensioni positive e negative da comprare sicuramente la situazione nel tuo e-commerce non è buona. Quindi se non è buona vuol dire che forse non è ben chiari quali sono quei valori unici che dovresti proporre ai tuoi utenti, quelle cose per le quali ti dovrebbero scegliere, perché se le conoscessi sicuramente andresti a giocare lì, in quel campo e vinceresti, perché è quella la parte da sistemare, da migliorare per avere dei risultati molto più redditizi. Ma magari hai ricevuto qualche recensione negativa e non sai che pesce pigliare. Però in questo caso la cosa più saggia che tu possa fare è avere la consapevolezza che c'è qualcosa che si può migliorare nel tuo servizio, nel tuo e-commerce. E l'esperienza utente, soprattutto l'analisi che è la prima parte, è l'unico mezzo che hai per migliorare. Quindi abbiamo capito che comprare recensioni false per i tuoi competitor non si fa perché se ti becca Google sono casini giganteschi e non vuoi che accadano. Comprare recensioni positive per il tuo e-commerce non serve proprio a nulla perché ti sgamano alla grande e comunque in ogni caso rischi tantissimo, allo stesso modo che nel primo caso e se vuoi dare ai tuoi clienti in target le risposte di cui hanno bisogno sicuramente l'unica via è migliorare la tua esperienza utente. Per farlo però ti servirà uno UX specialist. Se vuoi io posso fare al caso tuo. Utilizzo un metodo scientifico testato e controtestato con tantissimi clienti e ti darò il quadro completo di quello che sta accadendo nel tuo e-commerce oppure nel tuo sito web. E attraverso l'analisi dei dati dei tuoi utenti, interpreterò i comportamenti degli utenti per capire quali sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza. Bene, se vuoi capire di che cosa mi occupo e come posso aiutarti più nello specifico, in descrizione trovi tutti i miei contatti. Se vuoi rimanere aggiornato sull'esperienza utente e sulle conversioni, iscriviti al canale e accendi la campanella. Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti danno una seconda possibilità.